professor la grassa la cronostoria della costruzione dell'euro vede all'origine della fondazione della moneta unica un accordo tra germania e francia gli stati uniti secondo lei hanno un ruolo in questa storia o sono dei semplici spettatori beh sì non è una questione che si possa decidere non ricordo più bene il calcio ma se ricordo ancora qualcosa c'era il cosiddetto controlla zona invece che la marcatura stretta ecco io credo che gli stati uniti controllino comunque quello che avviene in europa da sempre dalla seconda guerra mondiale si dalla fine della seconda guerra in europa ripeto occidentale poi dopo il crollo dell'urs forse ancora più nell'europa diciamo orientale quindi è chiaro che quello che avviene da sua parte gli accordi specifici quelli sull'euro non so i vari trattati o altre cose quello può essere anche che ci siano stati accordi tra germania francia e magari con l'intervento anche di altri paesi dubito però che gli stati uniti si facciano prendere proprio in contropiede ecco quello non credo di fatti anche lì io molte perplessità quando vedo questi attacchi feroci alla germania non perché non dica che la germania magari anche ai suoi demeriti ampi ma credo che dietro tutto si debba sempre vedere insisto se non gli stati uniti nel loro complesso ma certi determinati ambienti chiamiamoli ambienti sono sempre chiamati così per dire insomma che ci sono alcuni che controllano insomma quello che avviene in italia e anche tutti questi sommovimenti che stanno avvenendo anche in questi giorni direi anche con questi incontri adesso tra renzi berlusconi eccetera non credo che gli stati uniti ne siano senza notizia ecco insomma tanto più che in italia loro hanno un ottimo rappresentante che è stato anche rieletto contrariamente a tutte le aspettative a quanto mi sembra era sempre stato fatto è stato rieletto è l'uomo che è stato in viaggio negli stati uniti già nel 78 per trattare certi cambiamenti di posizione del pc e quindi insomma gli stati uniti insisto secondo me soprattutto certi ambienti e certi ambienti democratici in modo particolare tengono sempre ben fermo quello che avviene è vero che c'è stato un periodo in cui hanno agito più direttamente nel mondo mentre poi con l'ultima amministrazione non soltanto per dire per quel che riguarda la libia si sono serviti di sicari come francia e inghilterra in particolare la francia e anche l'italia che che se ne dica che l'italia intervenuta abbondantemente in libia più di quanto non si creda è così ma in linea la stessa cosa anche in siria hanno usato poi ma ripeto gli stati uniti tengono abbastanza sotto controllo direi la situazione non solo in europa anche in altre parti del mondo evidentemente ma anche in europa credo che l'europa sia più importante di quanto non si dica e anche l'area mediterranea credo che non sia da sottovalutare c'è una cosa che ho notato che adesso si cerca di far pensare che l'avversario principale degli stati uniti è la cina quindi gli interessi degli stati uniti si spostano strategicamente soprattutto verso l'asia no io credo che l'avversario principale ancora al momento è la russia malgrado tutto e quindi quel che avviene nell'europa orientale ma anche in tutta la zona del medio oriente del caucaso d'accordo là non se ne parla ma voglio dire anche tutta la parte del medio oriente e africa del nord quindi area in sua mediterranea ha una sua importanza quindi direi che europa e in particolare l'italia sono sempre ripeto controllati a zona invadisco dagli stati uniti questa è la mia opinione insomma poi ripeto accordi specifici ci mancherebbe altro ci possono benissimo essere anche tra paesi europei questo va da senso per quel che riguarda i particolari insomma sto dicendo le linee generali insomma grazie a tutti grazie a tutti